Oltre 9 rifiuti di ogni genere per ogni metro lineare di arenile. I rifiuti continuano ad essere ospiti indesiderati nei nostri litorali. Nelle 14 spiagge monitorate in Campania sono stati censiti oltre 13.000 rifiuti in un'area totale di 39.700 metri quadri, una media di 947 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia che supera di gran lunga il valore soia stabilito a livello europeo per considerare una spiaggia in buono stato ambientale. A parlare chiaro sono i nuovi dati dell'indagine BeachLitter 2021 realizzata dai circoli locali di Lega Ambiente e lanciata in vista dell'iniziativa spiagge fondali puliti prevista per il 14, 15 e 16 maggio. Oltre alla rimozione dei rifiuti, l'obiettivo di spiagge fondali puliti è anche quello di sensibilizzare i cittadini sul grande problema dei rifiuti marini che non risparmia il Mediterraneo. Nel Salernitano sono state sei le spiagge monitorate, quella presso la foce del fiume Tusciano a Battipaglia, l'area protetta di Lega Ambiente ad Eboli, la spiaggia libera a Ponte Cagnano-Faiano, quella di Pioppia a Pollica, la spiaggia dell'oasi dunale Pestum a Capaccio Pestum e la spiaggia di Mercatello a Salerno. Quella di Pestum ha registrato il più alto numero di rifiuti, 1.381, di cui il 32% riconducibili alla cattiva depurazione delle acque, come i cotton fioc solitamente gettati nei water. Ne sono stati ritrovati ben 429. La plastica resta il materiale più trovato dei rifiuti spiaggiati. Su circa la metà delle spiagge campionate la percentuale di plastica e guaglia o supera il 90% del totale dei rifiuti monitorati, mentre sul 71% dei lidi sono stati rinvenuti guanti, use e getta, mascherine o altri oggetti riconducibili all'emergenza sanitaria Covid-19. Rinvenuti anche quest'anno i dischetti utilizzati come biofilm carrier nei depuratori.